Bussarono alla porta i tedeschi, andarono in casa e lì c'era la moglie con la nipotina praticamente e alla nipose, alla mia zia, gli puntarono il fucile alla testa, un tedesco, e portarono via mio nonno. Però siccome abitavano Alberti e vedevano da lì, videro praticamente tutto, quando li fucilarono e poi gli dettero fuoco. Nelle stragi di Cavriglia, tra il 4 e l'11 luglio 1944, furono uccisi 192 civili di tutte le età in una serie di rastrellamenti tra Meleto, Castelnuovo, Massa Sabbioni, San Martino e Le Matole. Qui ebbe infatti luogo uno dei più atroci massacri nazisti, il quarto in Italia, per numero di vittime. Io sono cattolico, quindi ho perdonato questa cosa, l'ho perdonato perché si sa che la guerra porta certe cose, però non posso dimenticare. Prosegue adesso l'iter avviato a Cavriglia per richiedere risarcimento alle vittime degli ecidi del 44 attraverso il fondo del PNRR dedicato. In accordo con gli avvocati che seguono la causa sui rimborsi, l'amministrazione comunale ha così organizzato un nuovo incontro con la comunità che si svolgerà lunedì 7 novembre alle 17.30 presso l'Aula Polivalente della Scuola di Meleto per fare il punto sulla situazione e per permettere ai nuovi ricorrenti di costituirsi attraverso la firma della Procura. Per i risarcimento delle stragi, attualmente i ricorrenti sono 100 assieme a Comune di Cavriglia e Regione Toscana che si sono costituiti parte civile.